Qui sicuramente tutti gli elettronici lo conoscono, c'è il laboratorio Scuola Radio Elettra di Torino che è composto dal oscillatore modulato modello 412 che lo cedo a 60 euro. Poi c'è il tester, il tester che va usato da solo oppure accoppiato col suo relativo prova valvole della Scuola Radio Elettra che preferisco venderli insieme, sia il tester che il prova valvole Scuola Radio Elettra vedete tutti quanti i selettori per la regolazione delle alimentazioni giuste del partitore per le valvole e gli isoccoli li vendo a tutti e due a 100 euro. Qui c'è la cassetta di sostituzione componenti RC, R, CR con le relative regolazioni, vedete picco farad 100 mega uno si fa la regolazione e si collega con le boccole e questo lo cedo a 40 euro. Qui abbiamo molto raro il beta tester Scuola Radio Elettra, guardate tutti i tasti per la selezione dei valori qui EBC emettitore base collettore per connettere il transistor e questo lo cedo a 50 euro. E qua abbiamo un altro oscillatore modulato gamma OLMN OC Scuola Radio Elettra Torino con il quadrante per la regolazione della frequenza e lo cedo a 40 euro. Bene ragazzi, se uno compra tutto quanto il laboratorio insieme che lo spero perché preferisco vendere tutto insieme tutto il blocco lo cedo tutto quanto per 250 euro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.